Sono Padre Jacopo Papi, sono un missionario plato di Maria Immacolata e faccio parte del gruppo Artisti per Dio. L'opera che ho scelto e che ho preparato per questo avvento è Il cammino è dentro, Maria Giuseppe verso Betlemme. Il cammino è dentro perché, un po' come dice Alberto Maciato, il cammino si fa camminando. Ecco, la cosa più bella di Maria Giuseppe è che il cammino ce l'hanno dentro di loro perché hanno Gesù dentro di loro. Maria ce l'ha fisicamente e Giuseppe ce l'ha aderendo alla volontà di Dio per lui. Ecco, non smettiamo di camminare perché il Signore si rivela in quello che facciamo, in quello che viviamo, in quello che ogni giorno ci viene offerto da vivere. Vi auguro un bellissimo cammino di avvento.